Acqua di rubinetto che è esposta a campi magnetici si comporta come se contenesse rame, anche se non c'è. È un effetto strano che i fisici faticano a spiegare. Intanto qualcuno già usa quest'acqua condizionata. Maurizio Menicucci. Questa provetta contiene il rimedio più comune per sbarazzare le piante di infestanti e parassiti. Rame sciolto in acqua e i test lo confermano. Quanto ce n'è? 2,35 mg al litro. Ma lei ce l'ha messo nell'acqua? No. E come l'ha fatto a ottenere questo effetto? Abbiamo sottoposto quel bicchiere d'acqua a dei pacchetti di onde elettromagnetiche con la lunghezza d'onda del rame. Il fenomeno era noto ma durava poco. Adesso riusciamo a stabilizzarlo, a fermarlo. Per quanto tempo? Minimo sono sei mesi. Ancora più sorprendente, se lo diluiamo, la concentrazione del rame non diminuisce. Uno dei migliori istituti al mondo, l'arbuzo in fisica chimica, ha stabilito che fino a 350 litri si può diluire e l'acqua rimane tutta 2,35. Quindi chiunque lo può verificare? Assolutamente sì. In campo l'acqua magnetizzata agisce come il rame ma senza inquinare i terreni col metallo. Corrado Giraudo, agricoltore di Busca, la usa da sei anni. Il prodotto cresce più rigoglioso e soprattutto patisce meglio i patogeni. I residui abbiamo già fatto delle analisi. Zero, non c'è residuo. L'SR quando si fanno soprattutto i trattamenti chimici sono proprio tossiche e con questo sistema siamo proprio tranquilli. A pensarla come lui in Italia sono pochi. Una quarantina come sperimentazione. I russi invece ci credono. Sono partiti con 18.000 ettari e nel prossimo anno 300.000. Sono molto più aperti mentalmente. Qui c'è più negatività, più diffidenza. Secondo gli esperti questi effetti imprevisti dalla fisica classica dipenderebbero dalla capacità delle onde elettromagnetiche di riorientare e far vibrare armonicamente le molecole di H2O che emettono a loro volta pacchetti di energia. Se il sistema, cioè l'insieme delle molecole d'acqua, entra in risonanza con la sorgente esterna, allora questo effetto può perdurare tempi non banali. La stessa risonanza permette a poca acqua condizionata di attivare enormi volumi, un meccanismo che ha molti esempi spesso negativi. In fisica un effetto debole può causare un fenomeno di tipo catastrofico. Parlando dell'acqua, effetti deboli possono generare tsunami. Gastaldi si prepara a estendere ad altri elementi le sue ricerche e rifiuta ogni collegamento a teorie contestate come la memoria dell'acqua. Abbiamo certificati universitari che asseverano che effettivamente l'effetto c'è. Grazie. Grazie.